Praticamente da un mese e mezzo che eravamo in trattativa nel Palermo e quindi nella mia testa sono stato in cima ai miei desideri, mi ero qui. Alla fine ci sono riuscito, per me è un grande onore essere da me nel Palermo. La ringrazio pubblicamente Camparini che mi ha voluto tirare i costi e ringrazio scolto lui, il direttore Cialauro e il mister Iacchini. No guarda, sinceramente vengo qua dove c'è un bel gruppo, un gruppo unito, dove vengo i cantanti in Serie B ma mi hanno detto che tutti qua c'è un grande gruppo, sanno e quindi è intributibile però vengo a costarmi un po' del tuerare, dopo non so che c'è anche Marese che è un grande giocatore però dopo sta il mister a fare le scelte. Sì guarda, gli ultimi sei anni di Serie A li ho spettato davanti a difesa però io sono a disposizione del mister e ho già fatto la mutala anche con il mister Iacchini a Piacenza o a Chievo però gli ultimi anni ho scogionato a difesa in Serie A quindi non c'erano problemi, però come ho detto prima decide il mister su questi aspetti tecnici.